Sarà difficile per lunghi anni, forse, parlare di Perugia senza che dal fondo della memoria riemerga prepotente come una maledizione mai placata la storia di un diritto, un diritto che ha segnato un'epoca con memoria indelebile. Di quella notte sarà difficile silenziare i fantasmi. Ce la ricorderemo così, Meredith Kercher, in quella sorridente foto da streghetta è l'uscente di giovinezza quel volto, a cui nella notte di Halloween del primo novembre del 2007 hanno spento ogni luce. Rudy, rispetto a quella tragica notte di novembre, lei quando, in che occasione ha conosciuto Meredith Kercher? Ai primi di settembre, le spiegherò perché. Ha dichiarato negli interrogatori di avere conosciuto Meredith i primi di ottobre a casa dei ragazzi marchigiani. A casa dei ragazzi, sì. Questi ragazzi abitavano al piano terra della stessa villetta di Via della Pergola dove abitava Meredith. E di questo c'è il riscontro, perché questi ragazzi lo hanno confermato. Poi lei ha dichiarato agli inquirenti di aver incontrato di nuovo Meredith in un pub dove veniva trasmessa una partita di rugby. E di averla poi rivista la sera di Halloween, che è il 31 ottobre sera, Il 31 ottobre, sì. Ha una festa nel locale Domus. Al Domus. Queste sono le sue dichiarazioni. Sì, sì. Dove lei e Meredith vi sareste addirittura scambiate un bacio. Sì. Lei sa bene che il fatto che lei e Meredith vi siate incontrati e magari anche baciati al Domus, in quel locale lì, non è stato però confermato agli inquirenti. Da Sophie Parton, questa amica, un'amica di Meredith, che quella sera era con Meredith. Ecco, quindi la sua parola, Rudy, contro quella di Sophie Parton. A che bisogna credere? Boh, guardi, le dico semplicemente questo. I giudici non mi hanno creduto, però trovo difficile che la Sophie Parton sia stata in ogni momento assieme a Meredith, in tutto quel trambusso che c'è stato all'interno di un locale dove le luci non è che erano a giorno. Io non so se lei ora ha ben chiaro come funziona un locale, una discoteca. Ce l'ho. Dunque... Però diciamo che fra le altre cose, a proposito del suo rapporto con Meredith, della sua frequentazione di questa bella ragazza inglese, i giudici di Merito, al processo a suo carico, Rudy, metteranno in dubbio proprio che lei avesse conosciuto Meredith. E questo penso che sia una stranezza, dottoressa. Vuol dire che anche i ragazzi marchigiani hanno detto è falso. Meredith l'ho vista a casa dei ragazzi marchigiani, Meredith ha assistito a varie mie partite del basket lì a Piazza Grimana. E questo è in dubbio. Siccome lei ha parlato di una conoscenza un po' ravvicinata, ha parlato di un bacio che ci sarebbe stato fra lei e Maric. Guardi, guardi, cioè a riguardo del bacio... Ma c'è stato questo bacio? Mi ascolti? Rudy, ma c'è stato questo bacio? Il bacio c'è stato. Però mi ascolti? Mi ascolti. Come qualsiasi ragazzo della mia età, anzi dell'epoca, che avevo 20 anni, andare in discoteca, andare in un locale, conoscere una persona sconosciuta... E baciarsela? E baciarsi non è una cosa difficile. Non è che ci vuole un appuntamento a lume di candela. Comunque Rudy, prima però di addentrarci nel buio di questa storia, che per la natura dei suoi protagonisti ha fatto il giro del mondo, è anche dilagato ampiamente nelle emittenti oltreoceano, è doveroso fare una precisazione. Finora hanno parlato tutti, e alludo in particolare a Amanda Knox e a Raffaele Sollecito, e quelli che per la giustizia sono stati i suoi presunti concorrenti nell'omicidio di Meredith Kercher. Amanda Knox e Raffaele Sollecito, oltre a indire conferenze stampa, a partecipare a un'infinità di programmi televisivi, hanno scritto libri, hanno rilasciato fiumi di interviste promozionali e non. Finora l'unico che ha sempre tasciuto è lei, Rudy Guede. Questa è la prima volta che lei parla. A questo proposito voglio dire che quali che siano state le interpretazioni, e in ultimo le conclusioni, che su questa tragica vicenda sono state tratte nei vari processi, che per l'omicidio di Meredith Kercher si sono susseguiti a carico di tutti voi imputati, è la sua versione dei fatti, Rudy, che noi stasera seguiremo. E lo faremo nel tentativo di capire come sono andate realmente le cose, logicamente, nella sua versione dei fatti. Nel tentativo magari di sapere è il non detto Rudy, naturalmente sempre con il doveroso riferimento a una verità processuale, che è quella che lei contesta, logicamente. Allora Rudy, ritornando ai fatti, abbiamo parlato di come, naturalmente in base alla sua ricostruzione, Rudy, lei e Meredith vi siete conosciuti, vi siete incontrati. Ecco, ci racconti ora, Rudy, invece come lei ha conosciuto Amanda Knox, la seduttiva ragazza americana il cui destino si è poi fatalmente intrecciato a quello di Meredith Kercher, nonché al suo destino, Rudy. Ricordiamo che Amanda e Meredith abitavano nella stessa casa di Via della Pergola, insieme a altre due studentesse italiane. Quindi Rudy, lei ci ha fatto un breve accendio. Ci racconti come la conosci? Amanda Knox ha un modo di conoscerla ai primi di settembre locale, le Chic. Ho un modo di conoscerla all'interno di questo locale e lei lavorava come cameriera. Guardi, questa è un'altra scena che mi ricordo perché è lei che entro dentro questo locale e mi si avvicina questa ragazza con un italiano un po' particolare e da lì ho un modo di scambiare due parole con lei. E vengo a scoprire che è di Seattle e allora le tiro fuori, guarda, c'ho un amico di Seattle. Insomma, una chiacchiera porta un'altra chiacchiera. Io non sapevo che la Knox abitasse la stessa villetta al piano di sopra di dove stavano questi ragazzi marchigiani. sono che sempre a metà ottobre incontro questi ragazzi marchigiani in centro, io ero assieme ad un'altra comitiva e quella stessa sera, assieme ai ragazzi marchigiani che abitano di sotto, andiamo a casa loro e trascorriamo una serata con la Knox e successivamente arriverà anche Meredith Kercher al piano di sotto. Questi ragazzi marchigiani hanno raccontato che un pensierino voloso lei ce l'ha fatta su Amanda. Era una bella ragazza, comunque... Perché in effetti sembra che su Amanda che lei avesse, diciamo così, buttato l'occhio sostanzialmente. Senta Rudy, a proposito appunto di questa conoscenza, diciamo di questo suo anche così interesse, interesse così da ragazzo per Amanda. Lei sapeva che Amanda flertava con Raffaele Sollecito? Guardi, in quel periodo no, assolutamente. E penso che non flertava con Raffaele Sollecito perché se non sbaglio è venuto fuori che lei ha conosciuto Raffaele Sollecito cinque giorni prima di questa triste vicenda. Dunque, io le sto parlando di un periodo in cui Amanda Knox, se direbbe, era libera. Senta, ma Rudy, ma lei conosceva Raffaele Sollecito? Assolutamente no. E anche di vista? Non conosceva neanche di vista. Senta Rudy, noi in questi anni, fra processi, interviste, dichiarazioni, fotografie, su Amanda ci siamo fatti una grande abboffata. Di Amanda conosciamo fin troppo. La sua collezione di magliette, i suoi tagli di capelli, le sue smorfiette, i suoi lacrimoni. Di Meredith, invece, la grande protagonista assente di questa vicenda, conosciamo solo le poche immagini di quel sorriso che non ha più stagioni. Lei, Rudy, invece, l'ha conosciuta, anche se, ecco, sia pure superficialmente. Riesce a descriverla questa ragazza? Riesce a farne un ritratto? Guardi, le dirò una cosa. Quella stessa sera in cui ero a casa dei ragazzi di sotto, quando ho visto Meredith, devo dirle che, sa, la prima domanda che le ho fatto, più che una domanda, è stato io scommetto che tu sei di dicembre. E così era. E su cosa lo scommetteva? Che fosse di dicembre? Perché c'era un rimando, quasi tutte le ragazze con cui sono stato, sono stato, erano nate a dicembre. Sono ragazze invernali, quindi le piaceva, insomma. Sì, come ragazza posso dirle che era una ragazza, nel gergo si dice, a portata di mano, nel senso... Semplice. Era anche una ragazza caratterialmente seria, nel senso, sapeva il fatto suo, no? È una ragazza che trasmetteva carisma, devo dire questo, e forse è quel carisma che mi ha affascinato di lei. Arriviamo ora al punto. È il punto. Ha un luogo e una data. Via della Pergola, primo novembre 2007. Ludi, per entrare legittimamente in una casa, bisogna essere invitati. Lei, Rudy, che quella sera di novembre in quella casa c'è stato, era stato invitato? Qui bisogna fare anche una premessa. La sera di Halloween, all'interno del Domus, in cui ho dato questo bacio, mi metto d'accordo con Meryl che ci saremmo visti giorno dopo. Ok? Non era un appuntamento al lume di Candela, ma un appuntamento che qualsiasi ragazzo universitario, o qualsiasi ragazzo all'epoca della mia età, si dà con un'altra persona della sua stessa età. E siamo rimasti e ci saremmo rivisti giorno dopo. Dunque, se io giorno dopo mi sono ripresentato presso l'abitazione di Meredith, è solamente per questo motivo. Comunque, sul punto di come praticamente si è verificato questo incontro, questa possibilità di andare a casa di Meredith quella sera, è stato un po' ondivago. Insomma, per questo poi non è stato creduto. Ha detto una cosa, poi ha detto un'altra, poi ha detto che vi eravate incontrati fuori all'esterno della villetta. Insomma, è stato questo suo essere così ondivago che ha messo gli inquirenti prima e poi i giudici nella condizione di non crederle. Comunque, lei sa, Rudy, che è uno dei punti notali proprio della vicenda, un punto sul quale molto si è favoreggiato e sul quale molto gli inquirenti hanno indagato e appunto sul come lei, Rudy, quella sera di novembre abbia avuto accesso in quella casa di Via della Pergola perché era lì, insomma. Lei appunto era lì, perché ero stato imitato da Meredith, ma praticamente a questo proposito sono presenti negli atti del processo una gamma anche fantasiosa di versioni che vado a elencare riducendoli naturalmente all'essenziale. Cioè, che lei, Rudy, sarebbe penetrato in quella casa arrampicandosi come un geco sul muro della palazzina per andare, per entrare in quella casa per rubare chissà cosa poi perché non era una casa di ricconi, insomma. E che a portare i reludi in quella casa, nella casa di Meredith, sarebbero invece stati Amanda Knox e Raffaele Sollecito per confusi fini e imprecisate ragioni. Ecco, per precisarle queste ragioni rifiacendosi sempre agli atti del processo per una partusa che poi è praticamente un gioco erotico di gruppo e in questo caso ha i danni di Meredith. Allora, Rudy, ce lo ripeto con chiarezza stasera. Chi le ha aperto quella porta e in che veste a lei quella sera era in quella casa di Via della Pergola? Se io sono entrato all'interno della villetta di Via della Pergola la sera del primo novembre è perché mi ha aperto Meredith e non perché mi sono arrampicato come un gecko su del muro oppure perché mi ha aperto Amanda Knox assieme a Raffaele Sollecito. Questo è. Questa è. Questo è quanto io ho vissuto. È la sua versione, infatti. Senta, Rudy, in quella casa come abbiamo detto oltre a Meredith abitavano anche Amanda, Knox e altre due studentesse italiane Filomena e Laura. Quando lei e Meredith entrate in casa c'eravate solo voi due e c'erano anche altre persone? Eravamo solo io e Meredith. E allora Rudy, sempre per seguire la sua versione dei fatti quando si chiude la porta alle vostre spalle alle spalle sue di Meredith ecco come prosegue la serata? Cosa accade fra lei e Meredith? Guardi le spiegherò cosa accade No, prima mi racconti come prosegue la serata? Entrate in casa Entriamo in casa ci sediamo in salotto nel salotto cucina è difficile per me rimaniamo nel salotto cucina io avevo mangiato un kebab e dunque nel frattempo il piccante mi aveva dato un po' allo stomaco e io le chiedo da bere perché comunque avevo sete e lei mi dice fai fai con comodo no? perché c'era il frigorifero io apro e prendo da bere bevo un succo dopodiché nel frattempo Meredith si indirizza verso la sua stanza alla camera da letto dopodiché ad un certo punto se ne riviene lamentandosi no? e inveisce contro la Knox al che e le dico che è successo e lei evidentemente c'erano in precedenza dei contrasti fra le due e lei mi dice che insomma ce l'aveva con la Knox principalmente io non sapevo del perché perché dice no le aveva rubate dei soldi tutte ste cose che non pulisce che è sporca tutte ste cose al che cerco di tranquillizzarla Meredith cerco di farla ragionare perché comunque un'accusa del genere voglio dire è pesante accusare una persona e dire che ti ha rubato dei soldi è pesante dunque cerco di calmarla si calma si tranquillizza e sempre nel salotto cucina accade quello che noi giovani chiamiamo good mood the good mood ossia quel stato di avvicinamento che può essere fra due persone e niente come posso dirle in termini espliciti senza problemi ci avviciniamo ci avviciniamo non c'è nessun rapporto sessuale a differenza di quello che è uscito in questi anni assolutamente no e c'è una una sorta di petting mi scuso per il termine insomma non ce ne sono altri sono i preliminari di un rapporto sessuale diciamo Meredith mi dice in inglese questa frase do you have a condom do you have a condom è che ce l'hai il preservativo io dico di no e anche lei diceva non ce l'ho e come qualsiasi ragazzo che ha avuto storie precedenti con altre ragazze mi rendo conto che non è il caso di andare avanti e dunque la cosa si interrompe lì mi scusi tanto ma insomma lei andando a casa a Meredith per questo appuntamento si suppone che lei non pensasse di parlare di filosofia o dei massimi sistemi sicuramente ecco scusi ma come mai non si è portato il preservativo poi sono oggettini che in generale si portano i maschietti quindi Rudy salta il meglio della serata parafrasando il titolo di un grande film niente sesso siamo inglesi non è proprio il caso di dirlo comunque andiamo per sequenze ecco cosa succede dopo dopo questa imprevista interruzione poi dopo di che ci rivestiamo poi dopo un po' di tempo ho necessità di andare in bagno lei ha parlato di un kebab che l'aveva fatto male mettiamo in chiaro questa cosa cioè questa necessità di andare in bagno perlomeno così ha detto il processo ma certo allora ci spieghi perché siccome questo è un punto topico molto si è discusso proprio su questo punto ecco lei è andato in bagno in quale bagno è andato ci spieghi guardi lì c'è una cartina sì le spiego allora il salotto soggiorno il salotto cucina dove sono stato con Meredith si trova da questa parte e quando ho avuto necessità di andare in bagno e l'ho chiesto a Meredith è stata la stessa Meredith ad indicarmi il bagno grande ossia il bagno più vicino al salotto cucina che è un bagno lontano dalla camera di Meredith che è un bagno lontano dalla camera dei Meredith certo ora Rudy nel suo ricordo quanti minuti più o meno lei è rimasto in bagno guarda io il minuto glielo so dire perché quando sono entrato nel bagno ora io questa cosa va chiarita guardi perché sono una persona molto igienica ok e dunque ho l'abitudine di porre la carta igienica sul water mentre faccio questa operazione sento suonare il campanello Meredith apre e lì riconosco ne nasce un diverbio con Meredith e riconosco la voce di Amanda Knox che è entrata in casa ora io a sentire il dibattito il diverbio che nasce fra i due sapendo che Meredith in precedenza si era lamentata contro Amanda Knox per via dei soldi per via del fatto che comunque era disordinata sporca cioè io non mi preoccupo più di tanto e me ne sto in bagno perché mai avrei mai immaginato che da una litigata fra un diverbio fra due ragazze chissà cosa sarebbe nato dunque continuo ad andare in bagno quindi Amanda Knox è in casa in quel momento sì sì io riconosco perfettamente la voce di Amanda Knox è con certezza che dice assolutamente al 101% lei è certo sicuro di quello sono assolutamente certo perché come ho detto prima ho avuto modo di conoscere le due ragazze soprattutto Amanda Knox è una cosa importante quella che stai dicendo come ho detto prima al 101% comunque come le ho detto io continuo continuo a effettuare il bisogno di cui necessitavo ascoltando l'iPod guarda guardi sono stato dentro il bagno perché poi me la sono presa proprio comoda comunque all'incirca per un periodo di 10-11 minuti come fa a dirlo dico questo dico questo perché ho ascoltato tre brani di cui due totalmente il terzo e lo ripeto di cui mi ricordo l'artista Lil Bawao Aura My System me lo ricordo perché comunque per quello che è successo mi è rimasto impresso in mente l'ho sentito fino a metà dopodiché ho sentito un urlo più forte del volume della cuffia che avevo all'orecchio e tenga conto che io sono tendo ad ascoltare la musica cioè a volume altissimo il volume dell'hipod era altissimo addirittura ho sentito la voce una voce così straziante al che mi sono preoccupato nel sentire nel sentire quell'urlo ho cercato senza neanche tirare lo sciacquone rivestendomi velocemente ho cercato di andare a vedere che era successo quando sono uscito e questa è un'altra particolarità che penso che è importante quando sono andato in bagno Merit mi aveva indicato di andare in bagno la luce del salotto soggiorno e del corridoio era accesa quando esco dal bagno dopo che ho sentito l'urlo è tutto spento tranne che la luce è presente nella stanza della Kercher allora io mi dirigo attraverso il soggiorno attraverso il corridoio e mi indirizzo verso la stanza di Merit Kercher e davanti alla porta della stanza di Kercher vedo questa sagoma maschile di schiena al che dallo spavento dall'agitazione chiedo ma che è successo e metto sto quasi per toccare questa persona nel di che è successo e questo si gira di scatto mi viene contro io indietreggio e cerco di muovere le mani guardi è stata una cosa talmente fulminia che non cioè non ho avuto tempo di alla domanda che è successo questa persona si è girata di scatto è stata una cosa fulminia e io ho cercato di indietreggiare e pararmi perché vedevo questa persona con le mani tant'è che io durante l'interrogatorio anche durante l'udienza del processo dirò che il movimento di questa persona non so cosa avesse le mani ho detto mi sembrava che avesse del bisturi perché sono stato anche ferito poi la polizia tedesca quando lei sarà catturato quando si che troverà questo che darà riscontro di questo si si darà riscontro quindi lei praticamente si imbatte in questa figura maschina che cerca la via di fuga non è che facciamo una lotta che lui mi dà un pugno che io gli do un pugno no è una persona che sentitosi diciamo scoperto cerca una via di fuga io indietreggio e finché cadono il soggiorno e questa persona se ne esce e dice andiamo andiamo ora guardi io quando sono stato interrogato ho detto perché questa persona che è uscita ha parlato con un'altra persona che era la Nox che gli diceva andiamo che c'è una persona scusi vuole ripetere questa persona ha detto alla Nox andiamo che c'hanno scoperto cioè c'è qualcuno in casa come se avesse detto c'era qualcuno in casa ma ora il ragionamento che ho fatto io dopo nel dire quello che avevo sentito perché in quel momento cioè stavo assistendo a una cosa che non è che assistivo tutti i giorni una cosa traumatica quando io dico che questa persona riferendosi all'altra in questo caso alla Nox dicendo andiamo via c'è un negro negro trovato è colpevole trovato è un mio modo di di reinterpretare quello che avevo udito ma lei si era reso conto di cosa era successo io quando queste persone vanno via se si allontanano quando queste persone si allontanano io cosa faccio io sto ancora nel salotto soggiorno e mi entro nella stanza della della Filomena per guardare fuori dalla finestra e riconosco la Nox che se ne va io il sollecito non lo conoscevo all'epoca dunque quando fui sentito io non ero in grado di dire se quella persona era sollecito o non sollecito l'unica cosa che avevo sono stato in grado di dire che la voce il modo di parlare di questa persona era tipica del sud ma al massimo che potevo dire lei ha descritto anche come era vestita questa persona e come mai lei non è riuscita a vederlo in faccia allora dicevo quando mi imbatto in questa persona e gli dico che è successo questa persona si gira in una maniera fulminia e dunque non ho tempo di guardarlo negli occhi come se stessi bevendo il tè e guardare i zigomi o guardare i colori dei capelli l'unico particolare che riesco a cogliere sono che questa persona indossava un berretto e indossava una giocca di lana papiri questo perché sono i simboli che emergono che sono riuscito a catturare e a infissare dentro la mia mente i capelli lei ha parlato di una striscia di un berretto con una striscia rossa tonda intorno e questo è quello che riesco a notare di questa persona l'altezza più o meno l'altezza guardi io ho detto questa persona da come l'ho vista e da come ho detto era un pochino più basso di me questo ho detto dopodiché quando queste persone si allontanano se ne vanno e io nel frattempo cerco dalla stanza della filomena di vedere la sagoma di queste persone io mi dirigo verso la stanza di Meredith è lì che vedo il corpo di Meredith per terra giù per terra e è lì che vedo una copiosità di sangue che le esce insomma d'attorno allora la prima cosa istintiva che cerco di fare mi rendo conto di quello che è successo e allora dico vado in bagno nel bagno più vicino alla stanza di Meredith e prendo un asciugamano entro dentro la stanza di Meredith e mi rendo conto che è ferita al collo e cerco di tamponare la ferita però non basta non basta tutto ciò e che faccio ritorno dentro il bagno di nuovo e prendo un altro asciugamano e cerco di ritamponare la ferita e ne riprendo un altro di asciugamano lei parla della ferita dove ce l'aveva questa ferita la ferita ce l'aveva al collo al collo ce l'aveva insomma cerco di tamponare la ferita ma non ci riesco addirittura cerco guardi è straziante non so non saprei come descriverle quei momenti perché sono così strazianti cerchi di fare il massimo che puoi per soccorrere una persona che non ti rendi conto di che è successo chi è stato non sai in quell'istante che avevo un po' di lucidità cerco di fare la cosa giusta che poteva fare una qualsiasi persona soccorrere Meredith Meredith addirittura cerca di dirmi qualcosa questo suono aff che poi io tenterò di scrivere le lettere sul muro col sangue col sangue sì perché avevo le mani insanguinate perché nel mentre tentavo di soccorrerla anche io mi sporco le mani col suo sangue no e dunque cerco aff sento storie aff aff con difficoltà e cerco però ad un certo punto un ragazzo di 20 anni trovarsi dinanzi a una situazione del genere da un momento all'altro così boom dal nulla cioè lo shock la paura ha prevalso su di me e non mi ha più fatto ragionare e ha fatto sì che io uscissi da quella casa uscissi e l'errore più guardi anni dopo pensando anni dopo e tempo dopo pensando a a questo fatto che mi sono lasciato prendere dalla paura dallo shock tutte queste cose c'ho non so come dirle mi sento mi sento di non aver fatto quello che avrebbe fatto anche un bambino di sei anni chiamare aiuto chiamare soccorso non essere stato in grado di di soccorrere Meredith è la cosa è per me una cosa molto dolorosa cioè lei si domanderà perché te ne sei andato via perché sei scappato tutte queste cose però in quel momento in quel frangente di momenti tante cose ti vengono in testa non lo so chi ti crederebbe la parola udita prima andiamo via c'è qualcuno dunque ciò ha fatto sì che la paura ha prevalso su di me e ciò ha fatto sì che io non abbia fatto non abbia agito nel miglior modo possibile per sia per pensare soccorso alla povera Meredith sia per attirare l'attenzione forse non mi avrebbero creduto lo stesso così come non mi hanno creduto non mi credono tuttora i giudici però forse si sarebbe potuto fare di più no si sarebbe potuto fare molto nel solo modo possibile cioè praticamente chiamando i soccorsi insomma perché però purtroppo lo shock la paura ha prevalso su di me diciamo che sono stato divorato lei ha detto sono stato vigliacco io le ripeto lei è stato vigliacco perché lei praticamente chiaramente insomma è facile logicamente per chi non si trova in circostanze di quel tipo puoi dare dei giudizi e quindi io ecco mi vergogno di aver detto che lei è stato vigliacco però sostanzialmente è lei che ha detto di se stesso io sono stato un vigliacco perché probabilmente merited lei ha detto avrebbe fatto per me quello che io non ho fatto per lei poi va ricordato che lei non aveva i cellulari perché glielo avevano sequestrati a Milano sì sì a Milano ecco quindi sostanzialmente lei non aveva neanche il cellulare però non avere il cellulare non è che la esime come ho detto prima anche un bambino di 6 anni si insomma avrebbe comunque si mette a gridare addirittura a dare finestre a cercare l'attenzione insomma a chiamare a correre insomma a trovare i soccorsi uno li può chiamare anche senza avere il cellulare insomma sicuramente quindi ricapitolando io devo fare riferimento necessariamente a quelli che sono stati così i dubbi gli interrogativi e anche i convincimenti a lei contrari degli inquirenti anzitutto intanto lei ha detto di essersi addirittura precipitato dal bagno addirittura senza neanche filarsi i pantaloni senza tirare lo sciacquone ecco e senza tirare lo sciacquone intanto i giudici praticamente ai giudici e agli inquirenti prima ai giudici è apparso inverosimile il fatto che lei praticamente sbattendo contro questo chiamiamolo l'uomo col coltello sia riuscito a individuare la marca della maglia di questa persona e non descriverlo in nessun modo non dare indicazioni in nessun modo per far risalire con certezza questa persona sai che i giudici poi non sono poi tanto disposti a percorrere i sentieri della fantasia e quindi le sue spiegazioni sono parse inverosimili soprattutto è parse inverosimile un altro punto il fatto che sostanzialmente il tutto si sia svolto in dieci minuti insomma dieci undici quelli che lei ha indicato uno dei dubbi che i giudici si sono posti è stato questo perché Amanda bussata la porta dal momento che essendo lei inquilina di quell'appartamento coinquilina le chiavi le doveva avere ce la faccio capire è semplice entri in casa apri entri in casa chiudi metti la chiave non ho capito non ho capito io scusi allora apri la porta della cassa tua entri chiudi la porta lei parla di Meredith di Meredith ho capito e metti la chiave nella insomma quindi lei dice Meredith ha messo la chiave nella toppa della serratura quindi questo ora un altro punto su quale i giudici sono assolutamente convinti che lei abbia mentito è che un evento così tragico di quel tipo una violenza di quel tipo si sia verificata in dieci minuti cioè praticamente che più che un'aggressione sembra un'esecuzione guardi io non so in che modo in che maniera avvengano delle aggressioni oppure non lo so non non mi è mai grazie a Dio non mi è mai successo è Rudi io necessariamente devo fare riferimento a quelli che sono stati i dubbi degli inquirenti prima e dei giudici sicuramente successivamente se no si ragiona pure sui dubbi assolutamente sì siamo qua per questo oltretutto è la prima volta che lei parla è la prima volta perché lei non ha mai detto quello che sta dicendo in questo momento non l'ha mai detto con tanta chiarezza perché per i giudici tornando a quello che è stato il loro dubbio dice praticamente l'assassino o gli assassini con progetto mirato in quei dieci minuti sarebbero dovuti entrare in casa sarebbero dovuto probabilmente tentare di violentare merit e l'avrebbero poi massacrata di botte e di coltellate fino a poi ucciderlo e appunto in questi termini come dicevo sarebbe sembrato più un'esecuzione poi Rudy un'altra cosa a proposito dell'uomo col col coltello insomma lei non ha proprio idea di chi possa essere questa persona lei dice Amanda c'era io dico al 101% che Amanda c'era era presente e è la persona con cui Meredith ha iniziato la discussione quando ho sentito suonare alla porta e che dunque Meredith abbia aperto a questa persona e ho riconosciuto la voce di Amanda Knox perché la conoscevo la voce di Amanda Knox così come conoscevo Amanda Knox dopo di che per quanto riguarda questa seconda persona come ho detto io facendo un percorso mentale di quel momento al 100% non sono in grado di dire chi era a quell'epoca però sono passati 8 anni e in questi 8 anni una mia idea me la sono fatta ce la dica non è che la devo dire io perché se andiamo a leggere l'ultima sentenza della Cassazione che si riferisce ai cosiddetti miei presunti corresponsabili è vero che quella sentenza dice che al di là di ogni ragione del dubbio per via del fatto che gli inquirenti abbiano fatto un lavoro fatto male e per via di fatto di tantissime altre cose non erano in grado di dire se erano colpevoli però quella stessa sentenza per chi avrà modo di leggerla parla chiaro che loro lì dentro quella casa c'erano e questo non lo dico io lei dice loro in questo momento sta usando il plurale sta usando il plurale perché così è scritto dentro quella sentenza della Cassazione che è uscita ultima riguardo a la Nox e al sollecito lo dice la Cassazione stessa non è che lo dico io lo dice lei lo dice anche lei in questo momento però stranamente poi come vedremo non sono state trovate le loro impronte affrontiamolo dopo questo perché è un altro capitolo perché praticamente in quella stanza che lei ci sia stato non ci sono dubbi lo dice lei lo dice lei dice pure in che misura c'è stato cosa ha fatto cosa non ha fatto purtroppo e che lei non ha usato il coltello io penso che questa sia una cosa da chiarire e da far sapere sono stato portato giudicato fino al terzo grado con l'accusa e con la condanna di aver concorso concorso in omicidio e violenza sessuale ok allora è la stessa sentenza che mi porta a condanna dice che Rudy Guede non ha niente a che fare con l'arma del delito assolutamente sì non è l'autore materiale del delito non ha ucciso lui Meredith è scritto nero su bianco adesso praticamente è scappato come l'ho detto sì come l'ho detto le ho risposto quando mi ha fatto all'inizio questa domanda le ho detto che sono scappato perché non mi avrebbero creduto sicuramente lei mi ha detto che avrebbe creduto a un povero negro un povero negro però detto questo le devo dire che in realtà io non sono scappato perché come ho avuto modo di dirle mi sono lasciato prendere della paura e beh scappato è scappato allora cominciamo con il dire ecco quando lei ha lasciato la casa di Meredith Kerch la casa di via della Pergola chi c'era in casa quando io l'ho lasciato la casa non c'era nessuno altro punto che la povera Meredith ovviamente non c'era nessuno scusi altro punto quando lei è fuggito la porta della stanza di Meredith lei l'ha chiusa o l'ha lasciata aperta? era aperta e infatti lei ha dichiarato che la porta l'ha lasciata aperta senta Rudy vorrei ora che lei con la forza di un fermo immagine descrivesse la terribile scena che lei sostiene di avere lasciato prima di allontanarsi da quella casa ecco nell'inferno di quel sangue Rudy lei Meredith come se la ricorda? era spogliata? era vestita? la stanza era in ordine? era in disordine? la Meredith era vestita indossava i suoi vestiti i pantaloni jeans era vestita così come io quando sono entrato con lei in casa lei era vestita alla stessa maniera infatti lei leggo un passo della sua dichiarazione verbale la giovane cioè Meredith era vestita nella stanza non vi era disordine solo il cassetto era aperto il letto era rifatto e coperto non più muore il rosso queste sono state le sue dichiarazioni queste sono state le mie dichiarazioni Ludi lei sa che i giudici che l'hanno condannata purtroppo non hanno creduto alla descrizione da lei fornita e non hanno creduto alla sua versione di fatti che lei insieme a terze persone avrebbe preso parte attiva alla violenza sessuale su Meredith anche poi se non sarebbe stato lei anzi non è stato lei a vibrare la coltellata mortale questo è indicato in sentenza allora vediamo come si presentava la scena di quella stanza straziata quando poi intorno alle 12 e 30 Meredith domani mattina verrà ritrovata la scena la scena La scena appunto, come ho detto, era completamente diversa da quella da lei descritta. Quindi, Rubio, o c'era qualcuno in casa quando lei è fuggito, contrariamente a quanto lei ha detto, oppure qualcuno in quella casa è intervenuto successivamente, qualcuno che però aveva interesse a che la scena del crimine fosse alterata. Una cosa è sicura, che io non c'ero. Questo è pacifico, oltretutto l'hanno ampiamente vista in giro, lei è andata a casa di amici, l'hanno vista in un locale, quindi che lei non ci fosse. Però adesso appunto ricapitoliamo come è stata trovata Meredith, domani mattina alle 12.30, quando verrà sfondata la porta e si entrerà in quella stanza di sangue. Allora, intanto la porta della stanza, lei dice di averla lasciata aperta, era chiusa a chiave, quindi non era aperta, come lei aveva detto. Per entrarci nella stanza hanno dovuto sfondarla, e non entrano negli dettagli perché sono elementi che appartengono al processo a carico di Amanda Knox e di Raffaele Sollicito. Ritenuti, come abbiamo detto, presunti concorrenti nel delitto. Ancora, contrariamente a quanto lei, Rudy, aveva dichiarato al giudice, la stanza di Meredith non era in ordine, ma era in assoluto disordine. Lei ha detto non l'ha lasciata in ordine. Il corpo di Meredith appunto era supino. Meredith aveva un cuscino sotto i glutei, era coperta da un piumone chiaro, che le lasciava intravedere solo il piede sinistro e parte del volto. Meredith non era vestita, come lei, Rudy, aveva dichiarato, ma aveva indosso una doppia maglia imbrattata di sangue e arrotolata fin sotto al seno. Meredith era praticamente la nuda, una condizione quella di Meredith che lasciava ipotizzare un'aggressione a fini sessuali. Poi, abbandonati sul pavimento della stanza, c'erano i due asciugamani, Rudy, che come lei ha sostenuto con gli inquirenti al processo e le hanno creduto, aveva adoperato nel tentativo di tamponare il sangue delle ferite di Meredith. Altra cosa, Rudy, quando lei è fuggito, questo è importante, la stanza di Filomena, ecco, la studentessa coinquilina di Meredith e di Amanda, in che condizioni era, Rudy? Era in ordine, in misoglie? Che è la stanza dove mi affaccio nel guardare le persone che scappano. E chi vede quando si affaccia? Vedo la nox che se ne va via insieme a questa sagoma maschile, a questa persona, a questa figura maschile. Sì, sì, e quando entro nella stanza della Filomena, la stanza è tutta in ordine. È in ordine. Ecco, e invece è trovato, Rudy, che nella stanza di Filomena era stata organizzata, anche in modo maldestro, una messa in scena per simulare che un ladro si era introdotto in casa e si era introdotto come? Fracassando un vetro con un sasso, il vetro della finestra di quella camera. Ecco, solo che il sasso e i vetri della finestra erano sopra i vestiti e gli oggetti sparsi nella stanza, sparsi attratamente alla rinfusa. Questo ho avuto modo di vedere pure io le immagini, le foto, e effettivamente i vestiti erano sfusi alla rinfusa e i vetri sopra. E il sasso era sopra. Cioè, segno evidente che il sasso era stato lanciato contro il vetro dall'interno e non dall'esterno dopo che era stato creato quel disordine, così, artratamente creato quel disordine, per simulare un furto con scasso. Ora, questa messa in scena sarebbe stata organizzata per lasciare spazio all'ipotesi che il diritto di Meredith fosse stato compiuto da chi inizialmente in casa c'era entrato per rubare e poi magari trovandosi, insomma, aveva anche tentato di violentare Meredith. Ora, questa assurda e incongrua messa in scena, organizzata lei? Assolutamente no. Anche dai rilievi della scientifica, emerso nella stanza della studentessa Filomena, non c'erano tracce di lei, Rudy, tracce che potessero fare risalire a una sua partecipazione a quella che avesse in scena. Allora, Rudy, chi sono gli altri? Chi ha stravolto quella stanza? Guardi, dottoressa, la sentenza riguardante la NOX e il sollecito, sappiamo benissimo come è andata a finire, però quella stessa sentenza dice che loro all'interno della casa c'erano. Dunque, io penso che la domanda a questo punto andrebbe rivolta a loro, non a me, soprattutto alla NOX a questo punto. Comunque, lei mi ha dato la sua risposta, insomma. Comunque, è evidente che chiunque sia stato, Rudy, o siano stati, c'è una sentenza della magistratura che va rispettata, insomma. No, no, si rispetta. Però, se si legge, se si legge nel concreto quella sentenza, soprattutto al punto riferito ad Amanda NOX, i giudici dicono che lei era presente perché lo scrive su un diario, e la stessa lo dice e di conseguenza che il sollecito non poteva non essere con lei. Dunque, questo lo dicono i giudici, non lo dico io, però sto dicendo che per comprendere il quadro di una determinata situazione bisogna leggere quello che vi è scritto, perché non possiamo dire prendo questo che mi interessa e questo che non mi interessa e la metto via. I giudici, i magistrati sono indiscutibili. Comunque, Rudy, lasciando perdere tutti quelli che sono i suoi movimenti relativi a quella notte, a quei giorni, salto con lei sul treno e con lei mi trovo in Germania, attraverso una serie di tappe. Come mai lei approde in Germania? Guardi, non lo so neanche io come mai approde in Germania. Non ho nessun parente in Germania. Mi potevo benissimo trovare in Russia. Però, scusa un altro, non è che io parlo della Germania, parlo della fuga. Fuggendo, andando in un altrove, che non fosse l'Italia, insomma, comunque che non fosse Perugia. Lei pensava di sottrarsi al coinvolgimento nel delitto di merito? Quello che le voglio dire è che io non ho pensato niente, perché in quel momento tutt'altro vi era nella mia testa che pensare che se fossi andato in Germania o in Francia o in Inghilterra mi sarei sottratto. E che c'era? Io ero un ragazzo di venti anni che aveva assistito a una tragedia e che era un automa. In realtà, lei fuggiva da se stesso in qualche modo. Fuggiva dalla paura, fuggiva dall'orrore, fuggiva da quel ricordo, fuggiva dal sangue. Tant'è che io appena ho realizzato che mi trovavo in una terra, in un paese come la Germania, la prima cosa che ho fatto, che sono riuscito a fare, è mettermi in contatto con Giacomo in quattro ore, quattro ore di telefonata Skype. Sì, perché Giacomo in quel momento, con l'amore infinito che ha per lei, che aveva e ha l'amicizia profonda, ha aiutato gli inquirenti a ritracciarla, insomma. Ora praticamente vuole ricordare lei cosa ha raccontato a Giacomo, quanto accaduto, insomma, che cosa ha detto, logicamente in sintesi. Guardi, a Giacomo gli ho detto le stesse cose che ho avuto modo di dire da lei. Gli ho raccontato del perché ero in quella casa, della sera di Halloween, dell'incontro con Meredith, dunque del motivo per cui ero lì dentro. Gli ho raccontato del fatto, insomma, tutto quanto, al momento del bagno che ho sentito l'urlo, sono andato a vedere, tutto quanto. Però quando Giacomo le ha chiesto perché sei fuggito, lei lui gli ha risposto ha avuto paura che avrebbero dato la coppa soltanto a me. Gli magistrati hanno interpretato, dicendo, è chiaro, l'hanno presa come una confessione. È stata presa come una confessione, solamente che il fatto che io abbia risposto che sia già in quella maniera a Giacomo, e il fatto che io abbia detto perché avrebbe dato la colpa soltanto a me, è lo stesso motivo che ha fatto sì che io sia fuggito. Comunque, una cosa l'ha detta, lei stava rientrando in Italia spontaneamente. Sì, sì, non è che mi hanno arrestato, che scappavo. Fui fermato durante un controllo del biglietto del treno nelle vicinanze, se non sbaglio, di Koblenz. Koblenz. Comunque, Rudy, la scena del crimine ha un suo linguaggio eloquente, racconta, no? Le tracce della sua presenza in quella notte, in quella casa, ce n'erano a sufficienza per indicare che non lei c'era. Cosa rilevano gli uomini della scientifica? Un'impronta insanguinata della sua mano era stampata sulla federa di un cuscino che era infilato sotto i glutei di Meredith. Nella vagina di Meredith, chiariamolo subito, non c'erano tracce del suo sperma, Rudy, né tracce del suo sperma, erano presenti su altre parti del corpo di Meredith. Ma il suo DNA Rudy, rilasciato con evidenza da cellule epiteliali, cellule epiteliali di un dito, erano presenti nelle parti intime. Non nego il fatto che c'erano. Comunque, una cosa va detta, che lei ha detto che con Meredith aveva fatto petting prima. Nel soggiorno. E quindi, nel soggiorno, quel dito birichino sostanzialmente aveva avuto la sua ragione di essere in un momento intimo, diciamo. Che è un momento intimo che è avvenuto nel soggiorno. E consensualmente. Ancora, Rudy, tracce sue erano presenti anche su una borsa, che era sul letto. Poi, tracce sue erano presenti sul polsino sinistro della felpa azzurra di Meredith, una felpa imbrattata di sangue che era vicino al corpo della povera ragazza. Altre tracce sue erudi erano anche sul lato destro del reggisino. E' un reggisino che era accanto ai piedi di Meredith. Ma c'era dell'altro che la riguardava. Nella stanza di Meredith c'era anche un'impronta di scarpa, marca Nike. Un tipo di scarpa che lei, Rudy, usava abitualmente. Nike Outbreak. Poi il suo DNA, Rudy, era presente anche sulla carta igienica, trovata nel bagno. Ecco, proprio nel bagno dove lei, Rudy, ha raccontato di essere andato prima della tragedia. Dove, peraltro, nel water c'erano anche le fesci che lei, Rudy, non aveva scaricato. Perché, come lei ha raccontato, si era precipitato fuori dalla stanza di Meredith, sgomento per l'urlo che aveva sentito. Ecco, questo è quanto. Corrisponde, Rudy? Corrisponde. Negli atti del processo i giudici hanno sottolineato, hanno ribadito in diverse circostanze che non si può addebitare a Rudy l'avere impugnato il coltello che poi è stata l'arma che ha ucciso la povera Meredith. E questo è un dato importante. Quindi Rudy è stato condannato per cosa? Per concorso, sottolineo concorso in omicidio con altri, e per violenza carnale. Anche su questo secondo aspetto, qualche considerazione, forse qualche approfondimento andrebbe fatto. La povera Meredith, prima di morire, ha lottato disperatamente. E di questa lotta ce ne sono, ha riportato sul suo corpo, ahimè, quante lesioni, che sono state frutto di violenze, frutto di una serie di pressioni che hanno determinato, hanno procurato una serie di ecchimosi sul naso, sulla bocca, sulla parte sottomandibolare, sulle gambe. Ecco, io dico, di tutto il materiale biologico appartenente a Rudy che è stato trovato sulla scena del crimine, non è stata trovata traccia alcuna, né sul viso, né sulle gambe della povera Meredith. E c'è di più, anche i periti incaricati dal pubblico ministero dei primi rilievi sulla salma della povera ragazza non hanno assolutamente potuto accertare tracce evidenti o, come dire, traumi che potessero determinare con certezza una violenza sessuale. E' vero che del materiale biologico di Rudy è stato trovato nella vagina di Meredith, è stato trovato tracce del tessuto epiteliale, per intenderci da sfaldamento di tessuto epiteliale, sono praticamente le dita. Ora però, la sua storia, il suo racconto è compatibile con questa circostanza. Perché? Perché lui di fatto che cosa racconta? Racconta di una effusione, delle effusioni scambiate con Meredith, però assolutamente consensienti, certamente né imposte né violente. Tanto è vero che sui pantaloni di Meredith, sulle mutandine di Meredith, non è stata trovata assolutamente alcuna traccia di Rudy. Ora, pensiamo un po' alla dinamica. E' estremamente complicato toccare una ragazza e non sfiorare assolutamente i suoi pantaloni, le sue mutandine, quando il rapporto non è consensiente. Io non ho assolutamente la certezza della innocenza di Rudy, ma ho molti, troppi dubbi sulla sua colpevolezza. E questo nel nostro sistema giudiziario, a mio avviso, è troppo importante. Allora, Rudy, diciamola tutta. Bugie in questa storia, in questa tragedia, ne sono state dette tante. Le ha dette lei, Rudy. Ne ha dette tante Amanda Knox, subito chiamata in causa, con Raffaele sollecito, coinvolti tutti nell'atroce fine di Meredith. E in tema di bugie ha inaugurato la serie proprio Amanda Knox. E il paese di sé, la signorina di Seattle, ha dato senza dubbio, quando inizialmente, in una delle tante versioni da lei confezionate, ha accusato dell'omicidio di Meredith Kercher, Patrick Lumumba. Patrick Lumumba è un 38enne originario dello Zaire, che a Perugia gestiva il Pub Le Chic, dove saltuariamente Amanda lavorava. È un'accusa, ho detto subito, che è costata a Amanda tre anni di reclusione. Insomma, senta Rudy, ma secondo lei perché Amanda ha accusato Lumumba? Mentendo, sapendo di mentire. Allora, io penso che in una prima istanza disegnerebbe chiederlo a lei. Poi, io mi sono fatto un ragionamento chiaro. Allora, quando all'interno della casa mi scontro con questa persona, con questa figura maschile, che io non conosco e che non mi conosce, e che parla con Amanda, che stava fuori, dicendole andiamo, c'è qualcuno dentro, io penso che dopo gli abbia detto che c'era anche una persona di colore dentro la casa. E il fatto che Amanda Knox, cioè, quello che voglio dire, se fosse stata Amanda Knox a scontrarsi con me, pur di difendersi, a mio dire, avrebbe caluniato me. Ma il fatto che gli è stato riferito, che c'era una persona di colore in casa, e pur di pararsi il sedere, mi scusi questo termine, non ha fatto altro che dire il nome di Patrick Lumumba, perché effettivamente quella sera lei gli arrivò, Alan Knox, arrivò un messaggio di Lumumba che gli diceva non venire a lavorare. Dunque, se quel messaggio gli fosse arrivato da Michael Jordan, avrebbe detto Michael Jordan. Questa è la sua versione dei fatti, chiaramente. Comunque, comunque va detto che Amanda Knox, nei suoi processi, nel corso dei suoi processi, il suo nome Rudy non l'ha mai fatto. Mai. Lei non se lo ricorda questo. Però non essendo stata lei a vedere me, che ero che, in qualche modo, li ho sorpresi in casa, ho sorpreso questa figura maschile in casa, non ha potuto dire Rudy. Ma se fosse stata lei a vedermi, avrebbe detto Rudy. Comunque, Rudy, tornando ai fatti, il 16 settembre del 2008, al Tribunale di Perugia, inizia il processo a suo carico. L'imputazione a suo carico è di avere lei, Rudy, partecipato attivamente, in complicità con Amanda Knox e con Raffaele Sollevici, citò all'aggressione di Meredith Kercher. Un'aggressione, appunto, finalizzata a una violenza sessuale, che per la disperata resistenza di Meredith, si era poi conclusa in tragedia. Questa è l'accusa. Senza Rudy, lei qui stasera con noi racconta, spiega, parla liberamente e al processo va bene che aveva solo 22 anni, però lei è riuscito a farsi ascoltare, a farsi sentire dai giudici? Così come ha fatto stasera con noi? Io ci ho provato, avevo 20 anni, ho provato di spiegare del motivo per cui ero in quella casa, cosa è successo, cosa ho visto, ma evidentemente non ci sono riuscito, perché l'esito finale è stato che mi ritrovo a essere condannato in concorso con i cosiddetti autori materiali che stanno fuori. Che stanno fuori, è una responsabilità che si prende lei, perché per la sentenza sono innocenti. Comunque Rudy, malgrado il giudice di primo grado indichi in sentenza, leggo il testuale, che lei si sia accodata a un'iniziativa più o meno improvvisata da altri, piuttosto che averla elaborata in prima persona e malgrado il giudice precisi si potrebbe del resto ipotizzare che Rudy Ghede non sapesse nulla del coltello, indicando quindi con chiarezza in sentenza che non è stato lei Rudy a sperare a Meredith il colpo mortale. Il 28 ottobre lei viene condannato alla pena dell'ergastolo con la riduzione a 30 anni di reclusione solo per la scelta del rito abbreviato. Però è importante sottolineare che per il giudice la condotta criminosa che aveva portato all'omicidio di Meredith Kercher fu posto in essere in concorso con più autori. Quindi, in parole povere per il giudice che ha sentenziato la sua condanna alla bestiale aggressione di Meredith Kercher a quella aggressione avevano preso parte più persone. Poi il 28 dicembre del 2009 la corte d'assise di appello le riduce la condanna da 30 a 16 anni di reclusione e uno sconto di pena dovuto al fatto che all'epoca Rudy lei era incensurato dovuto soprattutto al presupposto che non sarebbe stato lei a impugnare il coltello che aveva inflitto il colpo mortale a Meredith Kercher. Il 16 dicembre del 2010 la Cassazione conferma. ora Rudy perché lei mi scusi si è fatto processare con il rito abbreviato? Io mi sono fatto processare con il rito abbreviato perché ho ritenuto assieme ai miei legali che nelle carte c'era tutta la mia estranetà a questo fatto. Forse se fosse andato in corte d'assise come sono andati poi invece Amanda Knox e Raffaele Sollecito lei avrebbe potuto diciamo chiedere un'escursione di testi magari chiedere il controesame di testi a suo carico col senare poi Senta Rudy indipendentemente da ritenere lei ingiusta la condanna che le è stata inflitta c'è però una responsabilità per la quale lei ritiene di dover pagare un prezzo per la morte spaventosa di Meredith Kercher. Guardi come io ho detto anche durante il processo io ho chiesto scusa alla famiglia di Meredith in quanto mi sento di non aver fatto il massimo possibile che una persona potesse fare nei riguardi di un'altra persona ossia che non sono riuscito a salvare questa ragazza e come ho detto se mi devo fare 20 anni 5 20 anni per non essere riuscito a soccorrere questa ragazza non ho nessun problema a farmi questi anni però non posso neanche fare un giorno di prigione di galera perché mi si accusa di aver ucciso ed aggredito sessualmente Meredith assolutamente no. Rudy mentre lei per l'omicidio di Meredith veniva processato e condannato dal gennaio del 2009 iniziava in corte d'assisi a Perugia anche il lungo intergiudiziario a carico di Amanda Knox e Raffaele Sollicito i quali accusati in complicità con lei Rudy dell'omicidio della Kercher si sono sempre dichiarati innocenti ecco forse non molti di coloro che seguono o che compassione hanno seguito le varie fasi di questa dolorosa vicenda avranno letto la sentenza della corte di Cassazione che in un'alternanza di condanne e di assoluzioni nel marzo del 2015 dopo 8 anni e 5 gradi di giudizio ha assolto definitivamente i suoi coimputati Amanda Knox e Raffaele Sollicito ma poiché quella a carico della Knox di Sollicito è un verdetto che indirettamente riguarda anche lei Rudy è doverosa a questo punto da dire come ai giudici della corte di Cassazione il 27 marzo del 2015 con una sentenza in tutto degna di uno stato di diritto hanno motivato la loro decisione e sul piano processuale hanno definitivamente chiuso questa storia è una solazione appunto quella di Amanda Knox e Raffaele Sollicito oscurata però in base a quanto espresso dai giudici della Suprema Corte dalla riserva della pessima conduzione delle indagini svolte dalla procura di Perugia e cito testualmente dalla sentenza svolte con deprecabile pressappochismo svolte con clamorose defaianze svolte addirittura con amnesie investigative e con colpevoli omissioni senza le quali si sarebbe sin da subito potuto accertare con tranquillante vale a dire con sufficiente affidabilità voi la colpevolezza voi l'estranità al delitto di Amanda Knox e di Raffaele Sollicito comunque i giudici della Suprema Corte che hanno assolto Amanda Knox e Raffaele Sollicito e lo dico in sintesi evitando faticosi tecnicismi hanno affermato che a fronte di una prova mancante insufficiente o contraddittoria il giudice deve mettere sentenza di proscioglimento pur si è animato da autentico convincimento morale della colpevolezza dell'imputato nei fatti l'assoluzione di Amanda Knox e di Raffaele Sollicito per come è stata formulata ricorda appunto la vecchia assoluzione per insufficienza di prove ma è un'assoluzione che comunque restituisce questi due ragazzi Amanda e Raffaele al loro libero futuro ecco senta Rudy avrei voluto sinceramente essere alloggiata in un lobo del suo cervello quando lei ha preso l'estero di questo processo se ci fossi stata io nel suo cervello cosa avrei sentito? cosa avrebbe sentito? a di là di ogni a di là di ogni quale ragionevole dubbio sono stato condannato in concorso questo avrebbe sentito allora un prezzo atto senza Rudy Raffaele Sollicito che poco tempo fa ha fatto una sorta di tournée televisiva per pubblicizzare un suo libro sulla sua personale vicenda legata al delitto di Meredith Kercher ha detto e ripetuto alcune cosette che la riguardano per citarne qualcuna ecco nella trasmissione televisiva otto e mezzo condotta da Lily Gruber Raffaele Sollicito ha detto Meredith secondo me in questo caso ha avuto giustizia perché secondo me il responsabile è detenuto perché non dimentichiamoci che esiste Rudy Gede che è detenuto in carcere con una sentenza definitiva che però è stato accusato e condannato per concorso in omicidio beh questi diciamo dettagli legali può spiegare meglio il professor Colombo ma di fatto la sentenza definitiva di Gede non parla di altre persone si dice nella sua sentenza che eventualmente si dovrebbe vedere se esistono altri correi nel delitto ma eventualmente quello eventualmente non significa che ci siano realmente questo ha detto Raffaele sulle città commento io penso che come ho detto prima solo una persona sciocca apre la bocca giusto per dargli fiato è un suo giudizio è un mio giudizio perché se siamo in uno stato di diritto se in uno stato di diritto si ritiene che una persona e non si capisce al di là di ogni quale ragione e dubbio viene condannato ad un concorso a cui non ha mai partecipato mi viene da domandare non dovrebbe essere logico che allora si permetta a questa persona di poter rivedere la sua posizione o se vi è stato un errore dovuto all'incapacità degli inquirenti che quella stessa incapacità ha influito anche su di me non si dovrebbe rivedere la posizione di questa persona perché io penso che uno stato di diritto dovrebbe fare questo dunque chi si alza e dice che è stata fatta giustizia per Meredith io penso che sia una persona totalmente mancante di senso di buonsenso perché io posso solamente dire una cosa alla famiglia di Meredith che sicuramente in questo momento per come si è espressa la giustizia c'è una persona che sta pagando una cosa che non ha fatto Meredith la deve ancora avere la giustizia e la giustizia penso che qualcuno si dovrà impegnare a dargliela senta Rudy sempre Raffaele sollicito nel corso di un'altra trasmissione televisiva Domenica ha dichiarato io penso che Rudy Gheide sappia tutta la verità su questa vicenda io penso che pure lui assieme alla Knox sappiano la verità su questa vicenda questo è un pensiero di cui lei si assume la responsabilità è un pensiero di cui mi assumo la responsabilità come si assume la responsabilità le parole del sollecito penso questo cioè quando ha detto queste parole io non è che mi sono mosso a querelarlo dunque non non vedo quale motivo dovrebbe dargli fastidio quello che sto dicendo comunque Rudy come abbiamo detto il 27 marzo del 2015 la Corte di Cassazione ha assolto in via definitiva Amanda Knox e Raffaele sollecito dall'accusa di avere ucciso Meredith Kercher assolti per non avere commesso il fatto quindi Rudy per la giustizia Amanda Knox e Raffaele sollecito sono innocenti e a buon diritto chiederanno anche il giusto risarcimento per l'ingiustizia subita per la detenzione patita a questo punto l'unico colpevole dell'omicidio di Meredith Kercher resta lei Rudy Gheide l'unico condannato l'unico condannato ha ragione precisiamo quindi lei ritiene di avere subito una condanna ingiusta però un fatto è certo sulla scena del delitto nella stanza del supplizio di Meredith la scientifica ha indubbiamente rilevato solo le sue impronte nessuna traccia nessuna impronta che non fosse la sua Rudy tanto che la Corte Suprema che nel 2015 aveva assolto Amanda Knox e Raffaele Sollecito le ha assolti anche in relazione all'assenza sulla scena del crimine di tracce biologiche riferibili a loro a loro due insomma escludendo la possibilità che fosse stata fatta una pulizia selettiva mirata una pulizia selettiva mirata delle tracce e delle impronte loro come se praticamente in quella stanza laddove è provato il contrario non ci fosse stato quell'erudio ecco come si spiega questo? Guardi si spiega la mia presenza in quella stanza si spiega semplicemente per un motivo perché io quelle tracce l'impronta di scarpa il DNA sulla borsa sul polsino di Meredith l'ho lasciate solo per solo motivo perché ho tentato di soccorrere Meredith se per quello non ci sono neanche tracce della Nox nella stanza dove dormiva mi sembra che è una cosa alquanto strano sì ma il problema non è come si spiega che non ci siano le tracce degli altri ma questo non è lei che può spiegarlo questo non è lei che può spiegarlo gli investigatori si sono limitati a individuare quelle tracce biologiche molto spesso privilegiando le tracce di sangue che erano ben visibili e magari hanno tralasciato altre tracce all'interno della stanza che in quel momento potevano non essere diciamo così significative ma dai fatti poi magari dopo potevano invece essere altrettanto significative quanto le tracce trovate sul corpo e nelle immediate vicinanze della povera Meredith probabilmente le tracce non sono state cercate perché in quella fase delle indagini non c'era la necessità investigativa di trovare altri riscontri a quelle che erano le dichiarazioni dei soggetti in quel momento tanto è vero che è stato effettuato un secondo sopralluogo proprio per andare a ricercare ulteriori tracce e quindi è molto probabile che in quella fase chi ha effettuato il sopralluogo ha ritenuto opportuno privilegiare alcune tracce a discapito appunto di altre tracce che ormai sono andate perse riguardo poi al fatto di cancellare diciamo selettivamente delle tracce biologiche chi ha operato diciamo così la pulizia dovrebbe si presuppone che dovrebbe sapere dove ha lasciato le tracce è ancora più impensabile ipotizzare una cancellazione selettiva una pulizia selettiva delle tracce perché c'è cancellare le tracce che ha lasciato un soggetto e lasciarne delle altre e anche comunque le tracce di pulizia attraverso queste luci forenzi vengono rilevate perché comunque il passaggio la cancellazione di queste tracce lascia inevitabilmente a sua volta delle altre tracce e quindi le tracce di pulizia vengono comunque rilevate dal momento che Amanda Knox e Raffaele Sollecito sui presunti concorrenti in omicidio sono stati assolti a questo punto bisognerebbe riaprire le indagini e dovrebbe trovare chi sono gli altri colpevoli del delitto ma guarda io non penso che la giustizia debba riaprire le indagini i stessi giudici dicono che quella casa c'erano quelle persone allora quelle persone sanno chi sono gli altri complici scusatemi di cosa stiamo parlando lo dicono loro ma lo dice la sentenza non è che lo dice Rudy comunque dal momento che lei in effetti è l'unico a pagare per una sentenza e per una condanna che ritiene ingiusta però in Italia esiste un istituto che si chiama revisione del processo alla luce di quanto detto lei pensa di ricorrere alla revisione del processo? guardi io penso che qualsiasi persona che lotta per la propria innocenza ricorre a occhi chiusi alla revisione processuale ci mancherebbe che me non so con le mani inserte e non colgo questa opportunità Rudy lei è in carcere dal 2007 a metterli in fila i giorni le stagioni i suoi anni dietro le sbarri sono già otto anni il pensiero in questi casi corre agli affetti dopo la catastrofe suo padre è corso da lei l'è corso accanto? mio padre l'ho visto ho avuto amore di fare colloquio con lui ai primi tempi se non che questa però è stata una mia scelta una scelta che è stata anche rispettata dal mio papà ho deciso che fosse il caso vedendo anche la sofferenza nei suoi occhi ho deciso che fosse il caso che non venisse dentro questo luogo il suo padre ha accettato questa sua scelta? sì senta Rudy nel voto di affetti genitoriali lei ha avuto però appunto la fortuna di avere in Italia a Perugia sindale elementari una sorta di vicemadre la voce signora Ivana Tiberi lei è rimasta vicino lo signora Tiberi mi è rimasta vicino la sento ogni ogni sabato al telefono con l'occhio telefonico e così come mi sono rimasti vicino oltre che Giacomo Gabriele tutte le persone a me care che in questi anni non mi hanno fatto mancare il loro affetto senta Rudy otto anni di carcere sono una fetta di vita importante per un ragazzo per un uomo giovane con lei come li ha impegnati questi anni come li impiega nei migliori dei modi possibili dottore Salosini tramite lo studio tramite la partecipazione ai corsi tramite l'aiuto che posso portare ad altre persone che si trovano in difficoltà laddove posso di dare una mano anche a chi non può chiamare nessuno non può fare colloquio con nessuno non riceve visite senta Rudy quando lei è entrato in carcere lei con i libri non è che avesse una grande dimestichezza e neppure una grande passione ora si sta addirittura laureando lei praticamente ha fatto tutto il corso di studi sostanzialmente e si sta laureando vuole dirci lei in che facoltà mi sto laureando in scienze storiche per la cooperazione internazionale del territorio presso l'università di Roma 3 dipartimento di scienze umanistiche praticamente sta facendo una tesi anche molto impegnativa vuole dirci lei il titolo della tesi è metodologia e fonti del racconto storico storia e mass media vale a dire vale a dire i modi ed i luoghi in cui la storia è stata raccontata a partire da Erodoto fino ai giorni nostri e come dovrebbe essere raccontata e come dovrebbe essere raccontata va detto Rudy di che qui al Mamma Gialla a sostenerla nel suo percorso di studi e non solo di studi nel suo percorso umano lei è stata accanto a un team di persone straordinarie persone che con grande competenza con affetto la seguono e anche la mazziano quando lei quando lei se la prende comoda quando si adagia e mi riferisco in particolare al criminologo al professore Claudio Mariani alla dottoressa Cristiana Cardinali alla dottoressa Valentina Nelis che è anche il suo tutor no? sì ecco per non dire peraltro della direzione del carcere del direttore della dottoressa Teresa Mascolo nonché di tutti gli operatori che la seguono con grande attenzione senta Rudy oltre a studiare al mamma gialla qui cosa lei lavora? sì lavoro lavoro presso l'infermeria centrale in qualità di addetto ai lavori a pulizie sia dell'infermeria vera e propria sia del reparto reparto detenuti siccome io poi ho una nutrita rete di informatori ho anche saputo che lei è anche un'artista che lei disegna dipinge e che ha anche un tratto pregevole peraltro io ho anche visto i suoi disegni i suoi dipinti ecco è un Rudy Guede tutto da scoprire Rudy dov'è il suo futuro? il mio futuro è nel mio paese che è l'Italia perché sono venuto via dalla costa lavoro che avevo 5 anni ok e sono cresciuto qua dei 29 anni che vado per compiere 25 diciamo che li ho fatti qua e dunque il mio futuro non può è che essere unicamente in Italia e specialmente a Ponte San Giovanni o nelle vicinanze quindi lei pensa di restare? assolutamente è casa mia io l'Umbria la sento come casa non ho altro luogo sicuramente nella vita avrò voglia di viaggiare avrò voglia di conoscere nuovi paesi nuovi popoli però credo che sia vero che le mie radici sono state sradicate dalla costa d'Avorio però è anche vero che sono state impiantate in Italia e fin da quando ero piccolo non ho fatto altro che nutrirmi della cultura oltre che della buona pasta della cultura di questo paese e mi sento totalmente italiano assolutamente dunque non può essere che unicamente qua di questo paese Grazie a tutti.